www.feyyaz.tv Che te ce dici? Il barista Riccardo Guadagno, uno dei giocatori più forti del calcetto a 5 Mi raccomando Pugliano a Mondano Tu fa sempre un scemerico? Erina Sincuele Ufff Ufff Poi Sincere A presto Un'altra 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 Ma cosa è l'abbandonato? Se fai tutti i baggini lucidi e tu... Io cerco di farci scala, apri che sui! Prezzo adesso mi fai il mio cuore, no? Riprendi, riprendi quello che farò! Perché ha giocato? È venuto? Ma è venuto davvero? Dai Ciro, ciao! Ah, eccolo, ciao a mangiare! Muori, è affatto tardi! Dovevamo giocare dalle 7 alle 8 e si è presentato dalle 8 alle 9, eh! Alla prossima sera, una pannita! Ah, è qua, è tornato adesso! Che cretino! Parla un'italiana! Un bel 3! I risultati, vedi? Dopo la partita, le sigarette! Adesso c'è una fresca, una mani ancora! Che ci ha dato una sconata. E' un bel 3! È un bel 3! E' un bel 3! E' un bel 2! E' un bel 3! E' un bel 4! E' un bel 3! E' un bel 3! Grazie a tutti.